Qual è il tuo talento? Qual è il pregio che hai ricevuto in dono? Buongiorno, buongiorno e buon caffè! Qual è il talento che hai ricevuto in dono, ma soprattutto come lo stai mettendo al servizio degli altri? Perché se qualcosa che ti è stato regalato, che ti sei trovato, perché te lo tieni per te? Perché non approfitti per fare qualcosa per gli altri? Perché è facile riempirsi tanto la bocca di quello che dovrebbe fare la società, dell'impegno per la pace, di quello che vogliamo fare per gli altri, di come dovrebbe esserci un mondo molto più legato, fraterno, molto più capace di superare le ostilità e trovare, partendo dai social, arrivando alle nazioni, una serenità di relazione che è quello che ci aspicchiamo tutti. Già, ma se non siamo noi i primi a metterci in gioco, perché dovrebbero cominciare gli altri? Qual è il dono che tu puoi mettere in mezzo al campo, in mezzo alla piazza, per darti da fare e dare una mano agli altri? Magari anche soltanto buttare dentro qualche idea sconclusonata, così un po' sghemba, nel telefono per farlo diventare un caffè? Perché no? Anche questo potrebbe essere un piccolissimo contributo. Certo poi ci deve essere coerenza di comportamento, altrimenti sarai veramente un impostore. Magari per qualcuno è scrivere libri, recensire libri, preparare dei video, mettere impegno nel volontariato, essere capaci di guidare gli altri a trovare la serenità dentro a un gruppo. Ma ognuno di noi ha almeno un dono, una capacità, un talento l'ha ricevuto. Magari deve andare un po' a scavare dentro al proprio ripostiglio per ritrovarlo e metterlo in luce, perché lui stesso l'ha sepolto, buttato in un angolo, così come quel famoso talento abbandonato da solo dentro la terra e non messo a frutto. Ma c'è, c'è di sicuro. E allora cerchiamo di recuperare perlomeno quello prioritario e metterlo sul tappeto per gli altri, metterlo in gioco per gli altri. Voi da quale talento cominciate? Che cosa vi sentite di stare facendo in maniera sistematica, corretta e veramente utile per gli altri e non come specchio per potervi sentire rassicurati alla sera? Buongiorno e buon caffè!